Respirare per controllare un terzo arto agganciato al corpo, il movimento del diaframma per dare i comandi aumentando di fatto le capacità di una persona, uno studio pubblicato su Science Robotics a cavallo tra neuroscienza e ingegneria che ci mostra le possibilità per gran parte ancora inesplorate del cervello umano. L'obiettivo dello studio è stato ed è un obiettivo prevalentemente neuroscientifico, capire i limiti del cervello nell'imparare qualcosa che va al di là degli schemi corporei, della struttura di controllo motorio che impariamo quando siamo piccoli. Anche quando impariamo a fare uno sport nuovo come il golf o il tennis ci manteniamo più o meno all'interno di schemi corporei normali, li modifichiamo, li ottimizziamo, ma qui si trattava di capire quanto potevamo capire e fare qualcosa di completamente diverso senza modificare la capacità motoria che già abbiamo. I ricercatori del Politecnico di Losanna e del Sant'Anna di Pisa hanno costruito un ambiente virtuale, l'utente indossa un visore e una cintura che misura il movimento del diaframma. Nel mondo virtuale la persona vede tre braccia, la destra, la sinistra e un braccio centrale con una mano a sei dita, perfettamente simmetrica in modo da evitare qualsiasi pregiudizio verso la mano destra o la sinistra. Gli esperimenti sono stati un successo, i soggetti riuscivano a controllare bene il terzo braccio in tempi tutto sommato brevi. Una ricerca che apre scenari interessanti per chi ha problemi di salute e ha perso l'uso di un arto, ma non solo. Capire come il cervello impara per usarlo per persone che hanno problematiche motorie e sensoriali, da un lato, quindi aiutare con sistemi assistivi e riabilitativi, ma potenzialmente sì, immaginare persone che lavorano in logistica, persone che lavorano chirurghi. C'è tutto un mondo di augmentation, di empowerment in qualche maniera per persone normodotate con determinati lavori che possiamo affrontare e probabilmente si affronteranno noi o altri nel tempo. E i ricercatori sono già al lavoro per migliorare il dispositivo e renderne i movimenti più complessi per continuare a testare anche i limiti del nostro cervello.